Un ampio tratto del viadotto stradale Geremia II, lungo lo scorrimento veloce 626 Gela-Caltanissetta, crollò nel maggio di cinque anni fa. Adesso di quei fatti e delle conseguenze prodotte ad una donna che si trovava a transitare a bordo della sua vettura al momento del crollo, sono chiamati a rispondere in tre. Si è aperto infatti il processo a carico di Luca Rizzi e Luca Manfredini, manager e direttore dei lavori per conto dell'azienda Veneta, che si occupò dei lavori di costruzione della infrastruttura viaria e di Francesco Lombardo, un funzionario del gruppo Anas. Sono accusati di aver provocato a causa dei difetti di realizzazione l'incidente che costò gravi ferite alla donna che si trovava a bordo della vettura sul tratto di strada diventato teatro dei fatti. La stessa vittima e il gruppo Anas hanno deciso di costituirsi parti civili. Dubbi invece soprattutto da parte degli avvocati difensori, comprese il legale Giacomo Ventura, sono stati espressi sulla possibilità che a costituirsi parte civile sia l'associazione Aria Nuova. Non ci sarebbero presupposti, stando alla difesa, dato che si tratta di un'associazione impegnata sui temi del rispetto ambientale. Sarà comunque il giudice a dover stabilire l'ammissibilità della richiesta. Lo farà alla prossima udienza del 20 novembre. In sede di udienza preliminare, già altri responsabili del cantiere del progetto sono stati giudicati. La pubblica accusa è sostenuta dal pubblico ministero Elisa Calanducci.